Siamo alla ricerca di giovani talenti che hanno concluso in tempo sia la triennale che la specialistica con ottimi voti che siano interessati ad avviarsi alle attività di consulenza. I profili maggiormente ricercati sono neolaureati e laureandi in economia, ingegnere gestionale, ingegnere informatica, scienze statistiche, scienze matematiche e giurisprudenza. Il saper lavorare in gruppo, il saper lazionarsi con altre persone che non fanno parte del proprio gruppo che può essere il cliente o piuttosto altre linee di business all'interno del network KPMG ed infine la capacità di adattarsi a diverse situazioni. La conoscenza delle lingue stranee all'interno del network KPMG è molto importante. Questo perché può capitare che si lavori sia su progetti internazionali sia con clienti che hanno delle succursali all'estero. La partnership che abbiamo con Alma Laurea è molto consolidata. Durante gli anni abbiamo utilizzato diversi servizi offerti che possono essere la pubblicazione degli annunci, l'estrazione di CV dai database di Alma Laurea, piuttosto che l'organizzazione di eventi specifici come possono essere i Recruiting Day. Il format di Recruiting Day è stato un format molto valido per noi perché abbiamo potuto ampliare la nostra comunicazione a tutto il database, abbiamo avuto la possibilità di selezionare i profili per noi adatti. È stato molto importante per i nostri professionisti entrare in contatto, parlare con i ragazzi e comprendere quelle che sono le esigenze dei profili junior in questo momento. Grazie per la visione!